Ciao a tutti ragazzi, video diversissimo da quelli che pubblico solitamente sul mio canale. Oggi andrò a realizzare per voi una sorta di tutorial su come diventare famosi su Instagram. Io negli ultimi mesi ho dedicato molto tempo a questo social network, tra l'altro vi lascio in descrizione il link, così se volete potete seguirmi. E devo dire che sono anche molto soddisfatta di quello che ha prodotto questo mio lavoro, tra virgolette. Infatti io da circa 100 seguaci che avevo a fine ottobre sono al momento arrivata a superare la soglia dei 1000 seguaci e questo mi riempie un po' d'orgoglio ma mi dà un'ulteriore voglia a fare meglio, continuare e ad aumentare sempre di più. E quindi sono qui per condividere i miei dieci piccoli segreti con voi. Trucco numero uno, avere un profilo pubblico. Sembra scontato ma se volete essere seguiti è preferibile avere un profilo pubblico rispetto ad avere un profilo privato. In più io vi consiglio di collegare il vostro profilo Instagram al vostro profilo di Facebook in maniera tale che i vostri amici che utilizzano anche loro entrambi i social network ricevano una notifica e molto probabilmente decideranno di seguirvi. Quindi avrete già i primi seguaci subito dopo l'iscrizione in questo modo. Consiglio numero due, la costanza. I trucchetti che andrò ad elencarvi di seguito non serviranno assolutamente a nulla se non c'è un minimo di costanza da parte vostra soprattutto nel pubblicare le foto. Non c'è un numero giusto di foto da pubblicare nell'arco di una giornata. Dovete trovare voi il vostro equilibrio. In ogni caso non pubblicate troppe foto tutte insieme perché andrete ad intasare la timeline dei vostri seguaci che saranno quindi molto propensi a lasciarvi e a disiscrivervi dal vostro profilo. Io per quanto mi riguarda cerco di pubblicare almeno una foto al giorno in maniera tale da avere un po' di regolarità. Qualche volta capita di pubblicare anche di più ma in genere ne ho una fissa assolutamente al giorno e per fare questo e per non rimanere senza idee a febbraio ho cominciato una challenge, una sorta di sfida fotografica. A inizio mese comincio e condivido una foto in cui ho una serie di temi, uno al giorno, che mi permettono appunto di pubblicare una foto al giorno. Ho cominciato appunto a febbraio e ha riscosso molto successo. Ho raggiunto molti like e molte persone hanno deciso di seguirmi e quindi sto continuando in questo momento anche con il mese di marzo. Se volete saperne di più potete andare sul mio profilo di Instagram, il link è in descrizione e vi lascio qui invece da qualche parte, qui, i due hashtag che uso, uno in inglese e uno in italiano, per appunto condividere la mia challenge o sfida fotografica mensile con il resto del popolo di Instagram. Numero 3. Che cosa pubblicare su Instagram? Che tipo di foto pubblicare? Qui dovete trovare un vostro format, dovete pensare come se foste un'azienda che propone i propri prodotti, diciamo così. Io per esempio anche tramite le sfide fotografiche che vi ho citato prima cerco di raccontare la mia quotidianità qui in Australia, visto che al momento sono appunto qui. Quindi raccontare il mio viaggio è quello che faccio qui in Australia. C'è chi ha il proprio profilo dedicato allo sport, chi ce l'ha dedicato alla dieta, chi ce l'ha dedicato alla moda e via dicendo. Per quanto mi riguarda ho potuto notare che le foto che ricevono più like sono quelle, i miei selfie, le foto con gli alieni che hanno come protagonisti gli animali, il cibo e anche i fiori. Altra cosa molto importante per quanto riguarda il che cosa pubblicare è quella di evitare assolutamente le foto prese da internet e quindi di pubblicare foto fatte da voi, foto personali, perché rendono il vostro profilo molto più appetibile a qualcuno che vuole seguirmi. Numero 4, quando pubblicare. Sapere quando pubblicare e quando i propri fan sono più attivi è una cosa molto importante per poter pubblicare le proprie foto in maniera intelligente. Io mi affido al sito gratuito, è accessibile da pc anche, che si chiama Iconsquare, vi lascio il link qui e anche in descrizione. Mi dice quando i miei fan sono più attivi, quindi ho le mie statistiche e riesco a vedere quando ricevo più like, quando ricevo più commenti e appunto riesco a giostrarmi meglio per quanto riguarda il quando pubblicare le foto. È uno strumento molto utile. Numero 5, i filtri. Adesso che abbiamo capito che cosa pubblicare e quando pubblicare, dobbiamo capire come rendere le nostre immagini più belle agli occhi di chi guarda. Quindi sembra assurdo, ma anche l'utilizzo di particolari filtri ci può agevolare nel raggiungere un numero maggiore di like e quindi di persone che visualizzano la foto e che potrebbero potenzialmente anche seguirci sul nostro profilo Instagram. Ci sono dei filtri che attirano più like, ma va detto innanzitutto che i filtri devono stare bene sulla foto che viene pubblicata e quindi renderla più bella. In ogni caso i filtri che statisticamente ricevono più like sono normal, quindi lasciare l'immagine com'è. Amaro, Ryze, Hudson, Valencia, X-Pro2, Sierra, Lo-Fi ed Efe. Segnateveli così adesso sapete quali filtri usare. Appunto, come ho già detto prima, i filtri devono essere adatti alla foto. Magari lasciatela normal, quindi senza filtri. Aggiungeteci l'hashtag nofilter invece di aggiungerci un filtro un pochino più azzardato. Consiglio numero 6. La descrizione. Allora, il mio consiglio è quello di usare assolutamente l'inglese, non usare esclusivamente... almeno non usare esclusivamente l'italiano, magari accompagnato da tag in inglese, perché perdiamo... si perde la possibilità di avere seguaci da tutto il mondo. Io personalmente ho dotato questa strategia, ovvero quella di mettere la prima parte della descrizione in inglese, in modo tale che tutti possono leggere la parte in inglese e capirla, e successivamente metterci la descrizione tradotta in... questa descrizione tradotta in italiano, e successivamente ci pentò tutta la lista degli hashtag attinenti alla foto. Altra cosa importante da fare in questa fase è quella della geolocalizzazione, ovvero l'aggiungere un luogo in cui la foto è stata scattata. Questo infatti è un ulteriore aiuto all'aumento della visibilità che vogliamo avere, che vogliamo ottenere. Più visibilità significa più like, e più like sono più persone che potenzialmente possono seguire il nostro profilo. Altra cosa che consiglio io è quella di usare la possibilità che permette Instagram, a Instagram di condividere la foto anche su altri social. Io ovviamente ne ho solo Facebook e Twitter, quindi la condivido su quei due social lì. C'è la possibilità anche di condividere su Tumblr e su altri social che non conosco e che quindi non uso. Numero 7. Forse il punto più importante di tutti quanti sono i tag. Sono appunto, come ho già ricordato, la parte fondamentale per raggiungere il più vasto numero possibile di persone. Usare i tag giusti per la foto è fondamentale. Io per fare questo mi affido ad un'app che ho installata sul cellulare che è InstaTag4Like. Vi lascio il nome qui. Perché uso questa applicazione? Perché ho una serie di liste già confezionate dall'applicazione, divise per argomenti, per temi della foto. Nelle liste ci sono i tag più usati e quelli più famosi. In più quest'app mi permette di salvare le mie liste, quindi gli hashtag che io voglio usare magari per le mie foto dall'Australia, per le mie foto dalle farm, per le mie foto che uso per la sfida fotografica di cui parlavo in precedenza. In modo tale appunto da averli lì e non dover pensare ogni volta che devo fare la descrizione se magari dimentico un hashtag, se magari ne ho messo uno sbagliato, eccetera. Altra cosa importante relativa agli hashtag è quella appunto di non usarli a sproposito, di usare solamente hashtag attinenti alla foto, quindi se ho un cane non metto l'hashtag gatto, anche perché potrebbe essere molto dannoso. Per chi partecipa agli eventi è fondamentale informarsi anche se c'è qualche hashtag specifico per questi eventi, in modo tale appunto da entrare in una sorta di micro community, ci permetterà appunto di interagire, di fare interagire le persone che sono a quell'evento e che partecipano a quell'evento con le nostre immagini e entrare a far parte di una sorta di community su Instagram è anche molto importante perché ci permetterà di usare degli hashtag specifici che vengono usati da quella community. A me viene da pensare tipo alla community degli IGERS Italia che poi si dividono anche nelle varie regioni. Appunto utilizzano degli hashtag specifici, quindi IGERS Italia, IGERS FWG, eccetera. In più fanno anche dei mini concorsi che permettono anche se vincete di avere la vostra foto pubblicata sul loro profilo che è molto seguito e quindi un'esplosione di visibilità se ci riuscite ovviamente. Numero 8, interagire con gli altri. Anche questo è fondamentale per farsi conoscere, mettere like e commentare le foto degli utenti. Io principalmente lo faccio con quelli simili a me, quindi gente che pubblica immagini di viaggi perché saranno più propensi a visitare il mio profilo e magari a lasciare almeno un like o se interessati a seguirmi. Cercate di fare questa cosa quotidianamente, lasciare almeno 100 like. Questo è il mio obiettivo quotidiano, quindi 100 like a immagini e eventualmente anche dei commenti. In più se vedo dei profili che mi piacciono particolarmente il mi iscrivo. Questo perché da un punto di vista statistico ogni 100 like voi avrete in cambio 20 like sulle vostre immagini più 6 seguaci nuovi per il vostro profilo e considerate che 100 like non ci mettete molto a metterli. Altra cosa importante che vi dico è inutile stalkerare le persone che hanno centinaia di migliaia di like e che hanno profili simili al vostro. Quello che vi consiglio io è quello di cercare persone che si siano iscritte da poco su Instagram e che quindi non hanno tanti like e che non hanno tanti follower. Come si fa questa cosa? Io seguo principalmente un hashtag che è, ve lo lascio qui, firstfoto. Cosa significa? Queste persone, le persone in genere che usano questo hashtag, stanno pubblicando la loro primissima foto su Instagram. Appunto essendo appena iscritte non hanno molti seguaci, non hanno molti like, saranno molto più propense a venire sul vostro profilo, lasciarvi un like e molto probabilmente anche iscriversi. Se però siete molto impegnati oppure non volete fare troppa fatica perché siete molto pigri, per mettere like e commentare le immagini degli altri utenti ci sono i prossimi due trucchetti che possono venirvi in aiuto. Numero 9 è il sito instagress.com, vi lascio il link qui e anche in descrizione. È un sito a pagamento che però vi offre tre giorni di prova gratuita. Io l'ho provato, lo ammetto. Si tratta di semplicemente registrarvi con il vostro profilo Instagram e settare alcuni parametri, tra cui i tag qui siete interessati a seguire e questo sito in automatico gestisce i like che mettete alle foto, i commenti che lasciate alle foto e le persone che andrete a seguire. Tutto questo in automatico. Io vi dico per tre giorni se volete farlo è gratuito. Io poi l'ho provato per i tre giorni di prova, poi non mi sembrava il caso di andare a pagare per una cosa che posso fare tranquillamente da sola e vi dico che comunque sia in tre giorni ho avuto dei gran risultati perché io da poco più di 100 seguaci sono passata ad oltre 300 seguaci. È stato semplicemente un accelerare un processo che avrei potuto fare tranquillamente da sola. Numero 10, ultimo trucchetto, ultimo sito è il sito arci.co. Anche qui vi lascio il link sia qui che in descrizione. Si tratta di un sito che è simile a Instagram. Avrete anche qui tre giorni di prova e poi potrete scegliere se pagare oppure potete anche condividere un'immagine su Instagram che vi dà diritto a tre giorni aggiuntivi gratuiti, portare nuove persone a iscriversi al sito che vi dà diritto a una decina di giorni aggiuntivi e fare queste cose così in modo tale da avere giorni in più da poter per poter usare in maniera gratuita il sito. Come già detto è simile a Instagram con l'unica differenza che vi permette solo di lasciare i like alle persone. Non vi lascia commenti in automatico e nemmeno segue persone e altri profili in automatico. In questo caso con questo sito potete settare dei tag specifici che volete seguire. Potrebbe essere first post o first photo che vi ho detto prima. Oppure potete aggiungere delle location. Quindi quando una foto verrà geolocalizzata con una determinata location ci sarà il sito che metterà un like a questa foto. Oppure potete aggiungere dei profili. In questo questo cosa è molto interessante, almeno dal punto di vista di uno youtuber probabilmente. Perché permette appunto di aggiungere questi profili ma non andiamo a stalkerare tra virgolette questi profili ma le persone che seguono questi profili. Quindi dicevo appunto è interessante da un punto di vista dello youtuber che vuole emergere perché se io sono un gamer posso andare tra virgolette a stalkerare le persone che seguono FADJ. Nel mio caso io potrei andare a stalkerare le persone che seguono Human Safari oppure Serena Maciaratte oppure in viaggio col tubo. E anche qui questa qui secondo me è la cosa più interessante di questo sito. Il video è arrivato alla fine. Io spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante, che abbiate trovato qualche spunto in più magari per migliorare il vostro account di Instagram. In questo caso io vi invito a lasciare almeno un pollice in su e se volete anche a condividere il video su Facebook, magari anche su Twitter o cose così, ma su altri social. Se avete qualche altro trucchetto che non conosco e che volete condividere potete lasciarlo in un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social, in particolare appunto Instagram e Facebook che sono i due che uso di più. In più ho anche Twitter, lo sto usando abbastanza ultimamente. Vi invito anche a seguirmi su Periscope perché mi piacerebbe cominciare a fare qualche live. Mi servono più spettatori però. Detto questo io vi lascio, ci vediamo al prossimo video che sarà presumibilmente qualcosa di un pochino più attinente all'Australia visto che è il mio campo in questo momento. Ciao! Grazie a tutti!